Buongiorno a tutti e bentornati sull'Italian Maker. Oggi facciamo un confronto molto interessante. Parliamo di fotocamere tascabili. Confrontiamo l'iPhone 15 Pro Max, un telefono che con cover e tutto arriviamo sui 250 grammi, che presenta un po' di focali interessanti, non starò qui a parlarvi di recensire l'iPhone, ci sono tantissimi altri video su YouTube Italia in cui ne parlano molto bene. Noi siamo un canale di fotografia, quindi ci ridicheremo soltanto a parlare all'aspetto fotografico di questo telefono. È un iPhone Pro, quindi parleremo solamente delle foto RAW che può fare. Il JPEG non lo guardiamo neanche, per quello ci sono canali che recensiscono le foto in generale degli smartphone, ma non sono fotografi. Noi ci analizziamo la parte veramente Pro. L'iPhone ha una focale principale a 24 mm, ma grazie ai suoi nuovi calcoli software e rimorulazione ai pixel, può avere una 28 mm d'equivalente. Ed è quella che ho utilizzato per tutto il video, per fare una sfida a confronto con la Ricoh GR3. L'abbiamo già recensita nel canale, trovate il video in descrizione. È una macchina da 250 grammi, come l'iPhone. Prezzo più o meno sta lì, 1100, 1300, insomma 1400, però non ci allontaniamo tantissimo, quindi siamo più o meno sulla stessa fascia di prezzo. Monta un 28 mm, come abbiamo detto, focale fissa non intercambiabile, f2 e 8, l'iPhone è un f1 e 7, però questo ha un sensore APS-C e l'iPhone è un sensore da un po' meno di un pollice. Interessante quindi scattare con entrambe in RAW e andare un po' a vedere cosa succede. Vanno le chiacchiere, ci spostiamo a Milano per fare un po' di street e poi andiamo a computer a analizzare i file. Ok ragazzi, eccoci qua a computer con Photoshop già aperto, foto a sinistra abbiamo Ricco, a destra abbiamo iPhone. Allora, ma come apre Apple il formato ProRAW non mi piace, mi piace metterlo in standard generalmente, però in questi casi di forte controluce, dove lui sfrutta tutti i suoi calcoli di intelligenza artificiale, è interessante lasciare in ProRAW. Vedremo in altre foto in cui invece è meglio cambiarlo. Quindi questa è iPhone, invece in questa qui è Ricco. Allora, come colori del cielo e naturalezza dei colori preferisco Ricco. Come gamma dinamica sembra iPhone avere la meglio. Ha sempre un bilanciamento del bianco che tira un po' al giallo, un po' troppo caldo. Quindi mettiamolo un filo più freddo per riuscire a confrontarle meglio. Ha le ombre troppo aperte in questo caso, secondo me è meglio farla un po' più contrastata così, ok? Così siamo un po' più vicini. Qui invece le luci sono decisamente un po' bruciate, ma vediamo che il sensore della Ricco tiene molto bene. Quindi nel confronto, ora così più o meno ci siamo. E andiamo a vedere il dettaglio con un crop sulle finestre qua direi. Vediamo un 200%, questa è Ricco. Concentriamoci qua. E andiamo a vedere sempre con il 200% della nostra iPhone. Ok. Allora, guardate un po', questo è Ricco, questo è iPhone. Il pattern qua del mattone e anche qua dei rosoni dell'edificio su Ricco sono rimasti molto più evidenti, su iPhone si sono persi molto via. Proviamo anche ad aprire le ombre per portarla bella luminosa, guardatela, decisamente troppo, però per sforzare il sensore. E comunque anche nelle zone qua tiene un dettaglio a cui iPhone decisamente non arriva, come possiamo vedere. Oh, bene bene, questa è interessante, questa è Ricco, situazione di street con un bel contrasto, una parte l'ombra, una parte luce. Le luci secondo me qua le ha un po' bruciate, nonché smarmellate come incisione, non mi piace un gran che... Passiamo un po' le luci, guadagna qualcosina, decisamente migliora. Io ho creato un mio preset che mi aiuta un po' a capire quanto il file tiene, un po' estremo da street appunto. Che è questo qua, bello zarra, mi piace con questi colori un po' così. Quindi questa è venuta così, il buon iPhone parte così, sempre con questo profilo, Apple Pro che apre troppo le ombre. Se lo metto in standard, già guardiamo come diventa interessante, molto interessante. E andiamo a applicarli il mio preset di prima e vediamo cosa succede. Ok, diventa un po' troppo scura, quindi forse dobbiamo andare a aprirla un po' di più. Mi sembra però che ha tenuto molto bene. Andiamo a vedere il confronto tra le due, dove abbiamo questa che è Ricco e questa che è iPhone. Ragazzi, come pasta quasi qua mi piace di più l'iPhone, vi dirò. Ricco, sì, forse dovrà lavorare un po' di più il preset in questo caso, è tirato un po' al magenta. Andiamo a vedere qua il dettaglio della casa che vi dicevo su iPhone, che vi dicevo su Ricco mi sembrava un po' poco inciso. Ok, questo è iPhone e questa qua invece è Ricco. Allora, Ricco, iPhone. Siamo lì ragazzi, in questa condizione che non c'era quindi un controluce che l'ha mandato un po' in crisi, ma più tranquilla direi ben poche differenze. Vi sto concentrando sulla scritta Duomo qua e come incisione vedo poca differenza. Proviamo anche ad andare qua sul cane, qua si è sempre su Ricco, questo è iPhone. Sì, il pelo qua è tenuto un po' più di texture, sull'iPhone si è un po' più smorbidato, ma in termini di rumore e anche ai bordi del fotogramma mi sembrano entrambi buoni file. Bisogna andare al 100%, quindi in questo caso qui di condizione più semplice, tra virgolette, rispetto a un controluce strong, si è difeso molto bene l'iPhone. Ok, allora, passiamo a un ritratto. Ragazzi, iniziamo a dire che se fate un ritratto con Ricco, con un 28 militri, un po' stronzi lo siete, però vediamo un po'. Allora, mi sembra un po' troppo freddo, a differenza di iPhone che è sempre troppo caldo, questa è troppo freddo, ne ho a bilanciare il bianco su qua, vediamo che si scalda qualcosina in più che mi piace, ma ok, e anche la luce qua è un po' troppo forte, io la abbasserei un filino. Ok, questo è il file. Questo è il file di iPhone, allora, lui già ha capito che non me lo carica più in Pro Raw, perché guardate, in Pro Raw è veramente un assassino per gli occhi. Quindi, in standard, ha il giusto contrasto, mi piace di più, sì, bisogna aprire un po' le ombre, sì, bisogna scrivere un po' di più, ma è umana, sembra una foto di una fotocamera e non una merda digitalizzatissima. Qui il bilanciamento del bianco è decisamente meglio, mi piace di più, e vediamole ora a one to one per vedere come ha preso il dettaglio sugli occhi. Qui siamo a uno zoom del 180% con iPhone. Allora, l'incarnato mi piace di più su iPhone, su Rico non mi piacciono i colori. Ora, guardiamo la definizione delle ciglia, ho qua la texture della pelle, si difende bene, ragazzi, non vedo questa differenza abissale. Anche questa non è modalità ritratto, è RAW puro, quindi non può usare modalità ritratto. Guardate, questo qui è iPhone, lo sfocato che ha rispetto allo sfocato di Rico. Ok, cioè, ricordiamo Rico avere un APS-C, quindi un sensore enorme, iPhone ha un sensore da un tredicesimo di pollice. Ah, un bel bocchè! A vederlo così c'è anche poco rumore dietro, che invece su Rico è un po' più presente. Qui ha tenuto, non ha fatto a lasing, va bene, quindi anche l'iPhone. Un po' meno inciso, guardiamo qua tipo sul loghino, Rico guadagna un pochino di incisione, ma sulla faccia poche differenze, e ripeto, come incarnato, tutto sommato, tra questo scatto e questo scatto, io preferisco quello di iPhone. Condizione di luce facilissima, che non mette in crisi nessuno. Guardate, proviamo proprio, apro RAW e li clicco automatico. Faccio così con profilo standard, di qua, quindi standard automatico. Non faccio nient'altro, voglio vedere proprio sul punto e scatta. Standard non è un gran che, automatico. Così, però, abbiamo fatto la stessa lavorazione. Vediamo cosa esce. Quindi troviamo davanti a Rico a sinistra e iPhone a destra. Vabbè, in queste condizioni di luce facili, la differenza, ragazzi, non la si vede, ma in condizioni di luce perfette, tipo questa, io vi sfido a confrontare una 7R da 60 megapixel full frame a un iPhone 8, le differenze sono poche. Cioè, in condizioni di luce facile, tutto è facile. Vediamo giusto l'incisione. Ci andiamo a concentrare sulla nostra scritta marina scente. Techele. 600% di zoom. Ti voglio proprio male ai sensori, io. Ok. E questo è iPhone. Va bene, vince. Rico di poco. Un pochino più inciso, ma la statua non è che è così perfetta. Sì, è un filo meglio, ma sgrana un po'. iPhone è meno inciso, ma sgrana meno. Però, appunto, in condizioni di luce facili, ragazzi, io vi sfido a trovare le differenze tra una fotocamera e un telefono. Direi, ultimo confronto di oggi, se il nostro video viene un mattone. Allora, Rico, appena aperta qui, fortissimo contrasto. Tantissima luce qua, tantissima ombra qua. Se tiro giù le luci, mi perde un po' l'incarnato lì. Aprendo molto le ombre, il sensore comunque tiene una bomba. È una figata il sensore della Rico. Se vi siete persi la recensione che abbiamo fatto, recuperatela nel link in descrizione. Andiamo a vedere il nostro amico iPhone. Il tuo profilo Pro Raw non mi andrà giù mai. Mi fa schifo. Già siamo atti la Adobe Standard. Guardate che risultato è simile a quello di Rico, in termini di tenuta di contrasto. Tiriamo giù le luci che sono un po' bruciatine. Tiriamo su le ombre. E andiamo a fare il one to one. Ok, questa, Rico. Ok, la prospettiva cambia leggermente e anche il momento di scatto, perché eravamo in due operatori a scattare, quindi leggermente disassati. Non guardate la prospettiva, ma guardate la foto. E direi che si è comportata egregiamente l'iPhone. Tiene testa senza fare troppa figuraccia. Andiamo a vedere nelle zone di ombra, quindi confrontandole una con l'altro. Incisione e grana. Allora, Rico ha più grana? Sì, mi sembra un po' più inciso. Io sto confrontando la faccia di questo signore in luce e la faccia di questa signora in ombra. C'è decisamente più grana nell'ombra. Su iPhone c'è meno grana, ma è meno inciso. Il signore è un pochino... Ma parliamo di pochissima roba, eh. C'è sulle ombre un po' di più. Sulle luci molto simile. Però c'è decisamente più rumore. Andiamo a vedere su una scritta per definire la nitidezza. Ok, quindi questo è iPhone e questo è Rico. No, beh, Rico è più incise. Decisamente. Però ce ne accorgiamo con un crop del 300%. Perché se ne vediamo così, io vi sfido a trovare differenze, ragazzi. È veramente un bel, bel file. Bravo entrambe. Direi che per il video di oggi è tutto. Continuate a seguirci per altri confronti tra fotocamere con l'iPhone, perché lo vogliamo stressare bene, questo iPhone 15 Pro Max. Un saluto dall'Italian Maker. Grazie.